Quello che la gente chiama il dono di un talento, come lo dobbiamo considerare? Il talento si costruisce attraverso molte vite, perciò non è mai un regalo della legge Il talento si costruisce attraverso molte vite, perciò non si costruisce attraverso molte vite Il talento si costruisce attraverso molte vite, perciò non si costruisce attraverso molte vite Il talento si costruisce attraverso molte vite, perciò non si costruisce attraverso molte vite Il talento 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 si costruisce attraverso molte vite Ho lavorato su una scuola o un'arco di faccia, una copia di 화장azione in un posto. Doviste studente? Doviste studente? Non, in un'arco, in un'arco che comprovi. Non, in una scuola prima di studente. Sì, buona scuola. Hai che vorrei la canta di vedere? No. Ah, ti piacciono? Non mi piacciono, non mi piacciono. Non mi piacciono, non mi piacciono. Ma prima cosa mi piaceva il musico, non mi piacciono, ma non mi piacciono. Mi piacevole. Ti ho provocivo. Pella fantasia, io credo mondo giusto Lì tu ti vivono, in qua c'è l'onestà Io so ne mani me, io so ne sempre i me Io so ne mani me, io so ne sempre i me Io so ne mani me, io so ne sempre i me Io so ne mani me, io so ne sempre i me Io so ne mani me, io so ne mani me, io so ne sempre i me Io so ne mani me, io so ne mani me, io so ne mani me Io so ne mani me, io so ne mani me, io so ne mani me Io so ne mani me, io so ne mani me, io so ne mani me Io so ne mani me, io so ne mani me, io so ne mani me Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti